Ciao ragazzi, ciao! Come state? Spero che vada tutto bene. Sono tornata con un nuovo video, wow! Questo video è molto speciale per me perché è dedicato a una persona speciale, ovvero, ovvero alla mia ragazza. A lei piace molto l'SMR e lo guarda, non direi ogni notte, però quasi. Le ho chiesto quali tipi, quale tipologie di trigger preferisse e ho deciso di riportarli tutti in questo video. Spero che non sentia dei rumori di sottofondo, ma è il mio fratello che guarda la tele. Purtroppo non vivo da sola e non posso far stare zitti tutti. Mi dispiace. Allora, il primo trigger che andremo a fare insieme sarà il tapping. Adesso attaccherò il microfono da qualche parte, ovvero qui. Sui miei segnalibri, questo per ora, è il mio portamicrofono. Ok, ok. Iniziamo facendo il tapping su vetro. Proviamo adesso a fare il tapping su questa plastica. che è questo materiale, credo sia proprio plastica, non è silicone. Dovrebbe essere una specie di pioggerellina. Proviamo a farlo. Lo so. Grazie a tutti. Il prossimo tapping sul libro. Come prossimo trigger faremo i rumori del libro, ovvero le pagine e... ... 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